Hola Pepeños, che tal? Benvenuti in questo ultimissimo video dello spagnolo in 5 video 2.0 Ci ho messo un bel po' a girarlo, però spero ne valga la pena C'è anche un piccolo esame che vi lascio alla fine del video E vi ricordo che se volete supportare il mio lavoro e ve ne sarete davvero tantissimo grato Potreste farlo attraverso o la mia pagina Patreon O acquistando le mie magliette su Motifì O acquistando i miei libri, o appunti di spagnolo, o il mio romanzo Gharam Il vostro supporto è necessario ed essenziale per il futuro di questo canale, quindi conto su di voi Iniziamo con quest'ultimo video Pepeños In questo video vedremo moltissimissime perifrasi verbali, divise in tre grandi gruppi Perifrasi verbali che si formano con l'infinito Perifrasi verbali che si formano con il gerundio E infine con il participio Iniziamo! Accavar de più infinitivo Indica il termine immediato di un'azione Possiamo tradurlo in italiano come Ho appena fatto qualcosa Accavo de limpiar mi quarto Ho appena pulito la mia stanza Accavo de limpiar il quarto Empezar, comenzar a più infinitivo Indica l'inizio di un'azione Empieza a studiar si quieres aprobar Inizia a studiar se vuoi superare il esame Empieza a studiar si quieres aprobar Deber de più infinitivo Indica una possibilità Deve de costar un ojo della cara Costerà un occhio della testa, un occhio della faccia, come si dice Costerà tantissimo Deve de costar un ojo della cara E ciarse o ponerse a più infinitivo Indica l'inizio immediato, abrupto di un'azione Inizia a piangere Aver che più infinitivo Indica una necessità Hai che comer ma sano Hai che comer ma sano Bisogna mangiare più sano Hai che comer ma sano Ir a più infinitivo Indica il futuro prossimo Voi a trabajar Vado a lavorare Futuro prossimo Voi a trabajar Tener che più infinitivo Indica un obbligo Tienes che trabajar Devi lavorare Tienes che trabajar Deber più infinitivo Indica un obbligo morale un po' più forte del semplice tener che Debes comportarti bien con tus padres Debes comportarti bien con tus padres Devi comportarti bene con i tuoi genitori Passiamo alle perifrasi che si formano con il gerundio Gerundio Accavar più gerundio Lo possiamo tradurre in italiano come È finito a fare qualcosa Diciamo la conclusione di un'azione È finito a lavorare in un posto Accavo trabajando in otra impresa Después della pelea È finito a lavorare in un'altra azienda Dopo la discussione Accavo trabajando in otra impresa Después della pelea Estar più gerundio Indica lo sviluppo di un'azione Estoi desayunando Sto facendo colazione Estoi desayunando Llevar più gerundio Indica il tempo di sviluppo di un'azione Llevas comiendo toda la tarde Para già Llevas comiendo toda la tarde Para già Stai mangiando da tutto il pomeriggio Smettila Seguir più gerundio Indica l'inizio di un'azione Ma senza la fine Quindi continuare a fare qualcosa Sigo pensando che eres muy mala persona Sigo pensando che eres muy mala persona Continuo a pensare che eres una persona molto cattiva Sigo pensando che eres muy mala persona Vediamo adesso le perifrasi che si formano con il participio Con il participio Estar Quedar O dejar Più il participio Indicano un'azione terminata Conclusa Se ha quedado frito E rimasto Morto Addormentato Stanco Se ha quedado frito Ha dejado dicho Che le passes Los appuntes Ha dejado dicho Che le passes Los appuntes Letteralmente significa Ha lasciato detto Che gli passi gli appunti Indica la fine di un'azione Ho detto a qualcuno Che devi passargli gli appunti Ha dejado dicho Che le passes Los appuntes Ha detto Che gli passi Gli appunti Pepegnos Adesso vi lascio Nel box di informazioni Qui sotto Il piccolo esame Che ho preparato per voi Dopo aver visto Questi 5 nuovi video Fate anche moltissima attenzione Pepegnos Perché alla fine Dell'esame Ci sono anche le soluzioni Quindi cercate di farlo Senza sbirciare Please E fatemi sapere Nei commenti qui sotto Se l'avete superato Quante ore avete fatto E se questa serie Di video vi è piaciuta Vi ricordo ancora una volta Di supportare Il lavoro che faccio per voi Su Patreon Accusate le mie magliette Oppure i miei libri Appunti di spagnolo E il mio romanzo Garam Siamo anche su Instagram E su Facebook E iscriviti Se non lo sai Per i prossimi video Hasta luego